Andiamo in quest'altro video invece ad un altro gruppo dei 2001 dell'Ossia Vare, il gruppo che è diretto da Mr. Persi con il suo collaboratore Cascapera che si occupa dunque di aiutare il tecnico nella parte fisico-atletica e che supporta dunque il mister in qualsiasi operazione in questa attività di allenamento. Vediamo i ragazzi del 2001 dell'Ossia Vare, questo secondo gruppo dopo aver osservato in precedenza quelli del tecnico Lauria che si allenano qui nella porzione di campo che appunto precede l'ingresso agli spogliatoi dell'Ancomazio di Ostia Liva. Vediamo i giovani bianco-viola in azione qui durante l'allenamento. Vediamo i giovani bianco-viola in azione qui. Ho inquadrato Mr. Persi e sto salvando la situazione mentre il vice Cascapera si occupa di seguire i ragazzi in questa fase di riscaldamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie